che vuoi? oh oh, ho cambiato idea per favore, chiudete la porta indirizzo sbagliato bene, ho bisogno dei criminali più pericolosi di cui tutti hanno paura Mary e Claire sono gemelle e il loro stile di vita sulla spiaggia è lussuoso shopping autografi servizi fotografici è difficile essere una gemella famosa e non noti nulla intorno a te il mio castello di sabbia non te la caverai così ciao piccolina che giornata meravigliosa io vado al bar due drink per favore pronto? sì, il tempo è fantastico qui corda per favore scotch per favore ok, ciao grazie per i drink abbiamo tua sorella è stata rapita è stata rapita oh no Claire ho bisogno di qualcuno che mi salvi ehi, che stanno facendo? hanno del nastro adesivo e una corda è sospetto hanno rapito Claire ridatemi mia sorella what? oh, stavate sistemando il salvagente? una ragazza è stata rapita aiuto ma quella sei tu sei identica? come puoi essere scomparsa se sei qui? è la mia sorella gemella ecco la prova oh non abbiamo ancora capito va bene mia sorella è stata rapita nei cattivi e non riesco a trovarla che cosa orribile ho un'idea ecco una lista di pericolosi criminali sull'isola potrebbe essere uno di loro grazie sei stata molto utile buona fortuna ragazza oh hai visto mia sorella? cosa? è proprio dietro di me ma dove? non c'è nessuno ok troverò Claire da sola scacco matto stiamo giocando a carte tesoro ma hai vinto comunque ahia calma yakuza è solo una ragazza cancella l'allarme rosso ciao grazie oh è un kimono Claire ridami la mia maglietta no è mia no è mia ops scusami mi sono lasciata trasportare non volevo farti male aiutatemi a trovare mia sorella l'avete voi ecco qualcuno che può aiutarti l'hackera anonymous grazie io se ne sono andati ha senso scusate avete visto questa ragazza? quello spaventapasseri oh no ah brutta foto aspettate ehi è questa? l'avete vista? no non credo ah grazie anonymous il grande terribile misterioso hacker mi scusi? posso? lasciami in pace sono impegnato a fare cose importanti oh davvero tutti possono premere sui tasti sfigato cosa? il pentagono davvero forte sono un genio ciao sono Polly sei tu il terribile e pericoloso hacker che sorpresa mi aiuti a trovare mia sorella aspetta lancio una ricerca oh anche Clara era esperta di tecnologia quasi finito ehi che stai facendo? ti sto facendo una bella foto proprio come me fantastico Claire sei un genio hackerare le telecamere entrare nel sistema di sorveglianza fatto eccola ehi Mary amo Troom Troom hanno i video più belli ehi gemella non toccare il mio portatile uops vuoi tua sorella o no? ecco chi devi trovare visto? i Bob J oh grazie hacker Polly sei la migliore ciao c'è una ricompensa per questa ragazza? sì finalmente so dov'è è qui guarda cosa? ma sono io proprio come nel poster dov'è la mia ricompensa? addio che avida questa è la hip hop gang hip j e hop b ciao ehi ragazze sono qui posso avere la vostra attenzione? ma chi sei? cosa vuoi? mia sorella è scomparsa proprio sulla spiaggia era sull'astraio è stata rapita da cattivi malvagi beh potete aiutarmi? ho un'idea hop b ci sto hip j segui mia amica salta sul sedile posteriore baby ok alza la musica e andiamo ecco siamo arrivate gran bel viaggio cosa? abbiamo girato in tondo è mia sorella ah giusto non sappiamo dove sia no non l'abbiamo vista mi dispiace amica cosa? e vi definite gangster? capisco grazie andiamo sorella dov'è mia sorella? mi manca così tanto wow che bella ragazza ciao questo è il nostro posto preferito puoi uscire qualche volta? ehi che c'è? perché piangi? aspetta è a causa mia ho bisogno di una doccia dov'è Claire? oh no è la mamma sarà qui tra cinque minuti sono nei guai la mamma non deve scoprire che Claire è stata rapita cosa dovrei fare? oh ho un'idea ciao tesoro dov'è Claire? avevo due figlie l'ultima volta che ho controllato la chiamo inizia l'operazione una di due ciao mamma sarò nella stanza di là ragazze vi ho preso gli occhiali da sole provateli così vediamo a chi stanno meglio grande Claire vieni a provare gli occhiali e vado a chiamarla Claire ciao mamma sono qui ti comporti in modo strano sentiti dritta è più difficile di quanto pensassi qualcosa non va nelle mie ragazze che succede qui? mamma what? Claire è scomparsa niente panico ho un'idea questa è la mia sorella gemella la nonna indovina chiederemo aiuto agli spiriti la carta della morte la carta visa e la mia carta a sconto del negozio oh sì le carte conoscono la verità bel castello di carte zia ehi non sei d'aiuto è tutta una truffa non offendere la zia grenda siediti posso fare più di quanto pensi spirito del fuoco aiutami Claire è trattenuta dai criminali i più pericolosi del mondo ma dove li cerco? trovati grenda può fare qualsiasi cosa oh accidenti non c'è nessuno che vuoi? oh oh ho cambiato idea per favore chiudete la porta oh indirezzo sbagliato bene ho bisogno dei criminali più pericolosi di cui tutti hanno paura entra pure cosa? quindi questi sono i più grandi criminali del mondo un gruppo di ragazzini che c'è ragazza? cerco mia sorella è stata rapita? è tua sorella? ehi perché l'avete rapita? ha offeso il nostro capo Claire non avrebbe dovuto calpestare il castello di qualcun altro non ha nemmeno chiesto scusa ciao piccolina attenzione abbiamo un nuovo nemico portatemi Claire capito capo che ne dite di fare pace? bene niente più litigi giurin giurello dichiariamo una tregua che avventura finalmente ti ho trovata andiamo Claire sei senza speranza